Nell'episodi precedenti di Revelations 2 Claire e Phil, tu vieni con noi Dove mi hanno portata? Così tanta sofferenza Non si vede ancora di cosa aver paura Tu chi sei? Io sono la guardiana Per favore, aiutateci Sono qui in vincola Per favore, tieni duro Non ho più i genitori Laggiù Come lo sai? Questo non ce l'hanno detto nei primi Merda, c'è nessuno là fuori Tua figlia si chiama... Moina Già Lei è morta Cosa? Meditazione Adesso comincia Ehi, Fernandez Guarda E' questo il posto? Il vasto, come si chiama? Sì Dove la vita ha inizio Eddie Thompson? Sì Gli darò un'occhiata Oh, cazzo Che è? Sì Gape Redfield Redfield Sei viva? Forza, in piedi Oh, Cristo Mi devi un paio di mutande In trappore C'è anche la novellina Ah, lo sapevo che eravate voi Preferenze? Ci siamo svegliati nel mezzo del bosco E voi invece? In una sorta di prigione cadente Gabe Gina è morta Merda Anche Thompson è andato Già Ma ho recuperato il suo braccialetto Eddie avrebbe voluto che scoprissi come funziona Hai davvero tagliato la sua cazzo di mano? A volte bisogna fare scelte difficili Dai Vediamo cosa c'è in questo edificio Allora Teniamoci tutto Che qua ci fanno fuori Benvenuti sull'urlo della vera paura La guardiana Che cosa vuoi? Ora devo lanciarvi contro il muro E vedere chi si attagga E chi no Il muro in questo caso È un virus speciale Che ho iniettato a ognuno di voi Fa ancora Cosa? Moriremo tutti Non c'è dubbio Ma uno di voi ha ancora la speranza di morire in pace Non sono una cavia Che appenda il suo culo da guardiana al muro Ma se siamo stati infettati con qualcosa Quella droia mi ha ficcato un ago Scordate ciocchiati Droia proprio Come? 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 Andiamo Ti devo mostrare una cosa Aspetta un attimo Che prima qua prendo delle cose Anche qua l'ho dovuto rifare Perché mi hanno ammazzato E era inutile Che comunque L'ho anche registrato Ma era inutile Cioè Ho fatto proprio cagare Arrivano Mostri a go go Spero che Fischer stia bene Neil Neil era con te Sì Ma ci siamo divisi dirigendoci qui Lo sai pilotare? Una volta riparato Ma il voltaggio non basta Serve una nuova batteria e del carburante Oh Credi che troveremo quello che ci serve in questo merdaio? Per la mia esperienza sì Aiutami a cercare Andiamo 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 Non trovare sta cavolo di batteria Eh Clerocast Sembra che non siamo soli 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 Mi serve aiuto. Mi serve aiuto. Mi serve aiuto. Mi serve aiuto. Eccolo, un trapponatore. Una trappa. Grazie, Pedro. Tanto muori. Questo è un documento. Mi serve aiuto. Fammi vedere. Posso sempre servire. Dov'è l'altro? Vieni. Se Pedro venisse dietro... Ah, 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 ah. Combiniamo. Posso più combinare. Pedro! Vieni qua, Pedro. Potremmo usare la tua trivella ora, se non ti dispiace demolire qualcosa. D'accordo, ma indirizzami nella giusta direzione. Eh, vieni. Pedro! Pedro! E' questo il posto? Sì Ma è pure Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Mmm E vabbè, Pedro Grazie Eh, ma che mire di merda Madonna Andiamo da Da Guild Da Guild Mh, Moira Vieni, dai Mmm Moira, Moira Dovrebbe avere tutto Bel lavoro, Redfield Non che ne sia sorpreso Ora tocca a me fare qualche magia Grassa magia Voodoo ripara elicotteri Cioè, faccia vedere sta magia Ma stiamo scherzando E' la guardiana Vuole attirare quei mostri su di noi Eccola Eccola L'interruttore L'interruttore deve essere degno Andiamo a vedere Iscriviti L'idea Ch intervene Grazie.